1, 2, 3 più forte 1, 2, 3 grazie grazie e ricordo questa sera e stanotte nel teatro alle ore 11 in erano club showtime non toccate sempre con i nostri fantastici grazie grazie e intanto aspettiamo le squadre della Costa Trezonante a caccia al tesoro della coming back che stanno nuotando e stanno arrivando le squadre della nostra caccia al tesoro tanto così come oggi c'è che vogliamo che 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti.